Anche oggi un bel libro all'aria aperta, Emplemere, Termini Merese e la società di mutuo soccorso Paolo Balsamo, 1882-1946, dal Regno alla Repubblica, di Enzo Giunta. 190 pagine tutte da leggere con tante belle foto d'epoca, edito nel 2000. Il consiglio di amministrazione di allora della società di mutuo soccorso Paolo Balsamo, presidente Lillo Alberti, nell'intento di fare conoscere i trascorsi e nello stesso tempo di dare lustro al suo dalizio, ebbe a patrocinare la pubblicazione di questo volume, realizzato grazie allo studio e alla laboriosa ricerca fatta da Enzo Giunta, con l'amore che egli notoriamente nutre per la nostra città. La società operaia di mutuo soccorso Paolo Balsamo, oltre ad avere svolto a lungo un ruolo importante sotto il profilo assistenziale, previdenziale, è stata certamente tra le istituzioni più attive e vivaci di Termini Merese. La lettura delle sue carte, che in buona parte vengono ancora oggi custodite con la massima cura dal suo presidente Giuseppe Uono e dall'amministrazione tutta, ha consentito, aggiunta, di avere uno spaccato più recente della storia termitana, della vita, delle consuetudini e delle tradizioni che hanno caratterizzato la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. E così Giunta ha cominciato a sfogliare i registri dell'associazione contenenti i verbali delle assemblee, del consiglio di amministrazione, quelli di cassa, quelli dei soci, la commissione a malati, scoprendo un mondo talvolta dimenticato, oltre a numerose informazioni e notizie che ha ordinato cronologicamente per consentire a chi ne abbia interesse di avere una visione la più aderente possibile della vita e della società di una cittadina di provincia consapevole di essere soggetto attivo della storia siciliana e nazionale. La raccolta cronologica è stata anche utile spunto per qualche disgressione, come dice l'autore stesso nella presentazione, generalmente limitata alla storia minuta, non codificata ovviamente negli atti pubblici, ma di cui si sarebbe rischiato di perdere la memoria. Il tutto, aggiunge Giunta, non ha pretese scientifiche ma vuole contribuire a far conoscere meglio la città che amiamo e che merita di essere amata. Nella prima parte del lavoro Giunta riporta un bel profilo di Paolo Balsamo che qui vado a sintetizzare al massimo. Paolo Balsamo nacque il 4 marzo del 1764 da una famiglia di contadini benestanti nella casa di via Gullo, oggi Civico 9. L'estrazione sociale fu certamente un incentivo per i suoi studi di agrari e per le sue proposte tendenti a migliorare non solo l'agricoltura ma anche la vita di chi all'agricoltura si dedicava. ordinato sacerdote proseguì gli studi spaziando dall'economia alla matematica, dalle lettere al diritto all'agraria. Nel 1787 prese parte al concorso per l'assegnazione della cattedra di agricoltura nell'allora Accademia, oggi Università di Palermo. Il 5 giugno a soli 23 anni, pensate, fu chiamato a ricoprire la cattedra. Andò in Toscana e in tanti altri paesi europei per studiare le nuove tecniche dell'agricoltura che ebbe ad applicare una volta tornato in Sicilia. Fu parlamentare, fu il principale estensore della Costituzione del Regno Indipendente di Sicilia. Trascorse gli ultimi anni della sua vita tra insegnamento universitario e impegni in Parlamento. Morì a Palermo, dove risiedeva stabilmente, e morì il 4 di settembre del 1816. La società operaia di mutuo soccorso, istituita appunto nel 1882, volle onorare la memoria dell'insigne Abate Paolo Balsamo dando al sodalizio il suo nome. E qui giunta comincia la parte cronologica del lavoro, anno per anno, dal 1882 al 1946. 1882, primo marzo, è la data di nascita della società, così come si rileva dai verbali dell'Assemblea del 26 gennaio 1930 e del 10 dicembre 1933. Fin dalla sua fondazione, la sede fu nel piano del Duomo al Civico V, nel locale già occupato precedentemente dalla casa di conversazione di gentiluomini, poi circolo Margherita che si trasferì, dopo averlo acquistato, nel fabbricato accanto. Contemporaneamente l'autore fa una bella panoramica sulla termine imerese di allora. Aveva caratteristiche diverse rispetto a quelle attuali e certamente vantava maggiore importanza nel quadro politico, sociale ed economico siciliano. Il bilancio comunale, pensate, si aggirava intorno al mezzo milione di lire, sia per l'attivo che per il passivo. La città contava circa 23.000 abitanti, anche se per la Curia erano 25.000 anime. Ed era un fervore di attività economiche nei vari settori del commercio, dell'agricoltura, della pesca e dell'industria. Le coltivazioni agricole erano caratterizzate da vite, olivo, agrumi, frumento e cereali vari, frutta, ortaggi, sommacco ed i campi venivano sorvegliati da un corpo di guardie campestri retribuite dal comune. La numerosa flottiglia di barche da pesca si dedicava in particolare alla cattura del pesce azzurro e gli stessi pescatori curavano anche la conservazione dei prodotti sotto sale. Si contavano aziende per la produzione di acque gassate, casse per agrumi e paste alimentari, candele di cera, liquirizia, paste alimentari, olio d'oliva, semola, nonché fornaci per la produzione di calce, gesso e laterizi. E inoltre c'erano cantieri navali, tipografie, molini a vapore, concerie, fabbriche di sedie. Nella città infine avevano sede banche, consolati, agenzie di navigazioni ed uffici per l'emigrazione. Il porto, meno ampio di quello attuale, ma fra i più attivi della costa settentrionale dell'isola, registrava movimenti annui per oltre 50.000 tonnellate e brulicava di velieri, normalmente utilizzati per esportare granaglie, legumi secchi, sommacco, olio, paste alimentari, zolfo. Sindaco della città era in quell'anno Giuseppe Mormino, mentre l'arcipriate era il canonico Biaggio Raimondi, il quale sovrintendeva su tre parrocchie, 39 chiese ed oltre 50 sacerdoti senza contatto, iniziare i religiosi, cioè i monaci e le monache, che abitavano i conventi. Pur registrandosi un certo livello di benessere legato alle attività produttive e dal ruolo commerciale rivestito, il fenomeno dell'emigrazione era abbastanza diffuso. Si contavano infatti circa 5.000 emigrati, le cui rimesse di denaro equivalevano al bilancio comunale, pensate un po'. Iniziando dal 1 marzo del 1882, la data di nascita della società, aggiunta a nota anno dopo anno tutte le più importanti attività della società operaia, integrandole con ulteriori notizie storiche, sia locali che nazionali, fino a pervenire al 1946, quando dal Regno si passò alla Repubblica. Conclude con una nota datata 2 giugno 1946. In città, come in tutto il Paese, si vota per il referendum istituzionale. I relativi risultati delle 14 sezioni vengono comunicati alla Prefettura dal sindaco Cannata con un dispaccio spedito alle ore 13.05 del 4 giugno. Repubblica, voti 2006. Monarchia, voti 9033. Quindi Termini fu decisamente monarchica. Un lavoro interessantissimo sia per la storia stessa della società operaia Paolo Balzo, sia per i riferimenti storici sulla città di Termini Imerese. Se lo trovate ancora in libreria, pigliatelo senz'altro. È da leggere e conservare. Quindi buona lettura a tutti.